parliamo con una figura molto molto autorevole ci spiegherà poi nei paesi della area ex unione sovietica è un istituzione qui in italia ogni tanto di martedì e qualche programma gli dedica lo convoca perché sa delle sue grandissime competenze però lo convoca magari lo fa parlare un paio di minuti perché se comincia a crearsi un dibattito sono problemi da bologna senior energy economist presso il cer centro europa ricerca docente presso il master in relazioni internazionali di imprese italia russia all'università alma mater di bologna master che udite udite un anno fa è stato soppresso a causa del conflitto russo ucraino responsabile del corso in geopolitica presso l'università aperta di imola l'occidente avete sentito un corso soppresso l'occidente che si autoproclama libero e democratico vieta l'esecuzione di opere di compositori russi e vieta i master universitari non scherziamo altro che democrazia e libertà siamo nel pieno della caccia alle streghe signore e signori demostenes floros ciao demostenes e ti vengono pure a prendere anche in macchina quando ti fanno intervenire da milano a bologna no con l'autista e dopo un paio di minuti senza dibattito perché accidenti se cominciamo a fare un dibattito con demostenes e poi lì succede succede qualcosa di grave e devo darvi una notizia in realtà è una brutta sorpresa perché Giorgio bianchi non è qui con noi oggi purtroppo è successo tutto stanotte il figlio di tre anni questa notte proprio gli si è ve lo dico proprio così gli si è gonfiata la pancia l'hanno portato d'urgenza all'ospedale il bambino gesù fortunatamente si sta risolvendo ora è in attesa della visita gastroenterologica però purtroppo è un bambino di tre anni questo è un grande dispiacere c'è un applauso comunque sembra che si stia risolvendo allora demonstra e senti dopo il colpo di stato a chiev è venuto nel febbraio del 2014 finanziato dall'occidente inizia una aggressione al donbass ecco volevo capire e tutti noi è fondamentale che capiamo perché la federazione russa non è intervenuta subito in difesa della minoranza russa e degli ucraini russofoni questo credo sia un passaggio molto importante sì questo è un passaggio fondamentale come tutti i passaggi fondamentali poco dibattuti nei nostri mezzi di informazione e io credo fondamentalmente per due motivi uno di politica interna e l'altro di politica estera che a distanza di nove anni forse possiamo capire in maniera più chiara per quanto attiene la politica interna io credo che la federazione russa si rende immediatamente conto o per essere ancora più precisi il 2 maggio 2014 con il pogrom in Odessa presso la casa dei sindacati si rende conto che è di fronte a un punto di non ritorno nei rapporti con l'occidente e in particolar modo con gli stati uniti d'america visto che purtroppo l'unione europea non riesce a mantenere una propria autonomia e quindi a dialogare con la federazione russa federazione russa con la quale nel corso dei 15 anni precedenti da quando i slovichi e Putin sono al potere avevano aumentato i rapporti commerciali energetici in maniera ogni anno crescente e ovviamente l'implementazione delle sanzioni che non inizia febbraio 2022 ricordiamolo bensì inizia nel 2014 sanzioni imposte dagli stati uniti d'america alla federazione russa e sanzioni imposte dall'unione europea alla federazione russa come dire con l'unione europea costretta dagli stati uniti d'america ad imporre questa sanzione perché inizialmente perlomeno non voleva e quindi l'unione e quindi la federazione russa è appunto costretta ad implementare una serie di politiche economiche commerciali dove sostanzialmente l'unione europea viene poco alla volta sostituita da altri paesi per cui se qualcuno faceva un viaggio a mosca non trovava ad esempio più la frutta greca io sono anche greco ad essere nato qua come potete ben capire o la carne italiana bensì trovava prodotti dell'america centrale e dell'america latina quindi la federazione russa è costretta ad una serie di politiche che ovviamente necessitano di tempo la seconda causa che forse è preponderante invece ha a che fare con la politica estera cioè è evidente che l'apertura di un conflitto con gli stati uniti d'america e con l'unione europea il tema dell'entrata dell'ucraina nella nato non dimentichiamo c'era già in agenda dalla fine del decennio precedente ovviamente avrebbe creato così come è stato una situazione internazionale gravissima che è fondamentalmente quella che viviamo oggi dove siamo nel bel mezzo di una guerra tra la nato da una parte e la federazione russa dall'altra però nel 2014 in maniera corretta mi avviso il gruppo dirigente putignano capisce che non ci sono le condizioni di politica estera di politica internazionale chi in quel contesto sarebbe intervenuto in aiuto della federazione rossa nel 2014 a mio avviso i paesi come in primo luogo la Cina ma altri paesi come l'India altri paesi dell'America centrale dell'America latina della stessa Africa avevano maggiori difficoltà rispetto invece all'aiuto che oggi vediamo arrivare direttamente o indirettamente nei confronti della federazione russa tant'è che oggi ci troviamo in una situazione paradossale a 14 mesi dal famoso febbraio 2022 dove gran parte dei nostri politici subito dopo il 24 febbraio Carlo dichiararono entro pochi giorni poche settimane l'economia della federazione russa crollerà e invece ci troviamo a 14 mesi di distanza con la federazione russa che nel 2023 avrà addirittura un prodotto interno lordo in crescita con la federazione russa che soprattutto non è isolata dal resto del mondo e ahimè quello che sembra essere sempre più isolato invece è proprio l'Occidente e questo è un punto a mio avviso molto molto importante che ci fa capire come da un punto di vista strategico del medio lungo periodo probabilmente il gruppo dirigente putiniano aveva letto e capito con grande anticipo a che cosa avrebbe portato un conflitto aperto con l'Occidente in particolar modo gli Stati Uniti d'America senti tu sei uno dei massimi esperti di energia qui in Italia ecco mentre noi qui in Europa ci facciamo distruggere il gasdotto Nord Stream e stiamo pure zitti per non magari creare dei problemi oltreoceano per non far pensare che magari può essere stato fatto dall'altra parte e ricordiamo anche South Stream che avrebbe dovuto far diventare l'Italia un hub europeo del gas anche quello la realizzazione fu bocciata dagli Stati Uniti di fatto avevamo una grandissima opportunità anche questa bocciata dagli Stati Uniti non so cosa ci continuiamo a stare a fianco degli Stati Uniti qualcuno dovrebbe spiegarlo c'è il resto del mondo invece che sulle fonti energetiche si sta sempre più interconnettendo di fatto ecco quali sono per capire questo è un passaggio molto interessante per capire quali saranno gli sviluppi proprio in tema di energia che è un tema centrale nel mondo quali sono i principali gasdotti nell'area euro-asiatica in Africa e a chi porteranno benefici? e poi vedremo a chi no a chi no certo tu tocchi un punto fondamentale permettimi un minuto in premessa perché è paradossale che io oggi mi trovi a Verona perché dico Verona? perché in questa bellissima città dal 2007 si svolgeva purtroppo devo utilizzare il passato il forum Italia-Russia poi è diventato forum eurasiatico di Verona cresciuto negli anni è diventato uno dei più grandi forum internazionali a livello proprio mondiale e io partecipo ho sempre partecipato a questi forum dal 2010 forum dove partecipavano i principali paesi del mondo con i loro ministri con i loro ambasciatori e con le più grandi e prestigiose imprese Verona è arrivata ad ospitare al forum eurasiatico fino a 1400 imprese tra i più grandi multinazionali del mondo e tra queste Carlo le più grandi multinazionali dell'energia e visto che stiamo parlando di energia io vorrei svelarvi quello che forse non è un segreto di Pulcinella ma che è bene precisare visto che noi abbiamo visto la crescita del prezzo del gas naturale delle bollette di tutta la discussione attorno al tema del gas naturale ebbene nel corso del decennio precedente vista che la principale causa dell'aumento del prezzo del gas naturale è il cambiamento intervenuto nelle modalità di acquisto contrattuali della materia prima io ho assistito a tutte le discussioni tra i diplomatici tra gli amministratori delegati voi della Rosneft voi della Gazprom voi dell'ENI voi della ExxonMobil e vorrei essere molto chiaro con voi è stato l'Occidente è stata l'Italia l'Unione Europea gli Stati Uniti d'America a chiedere alla Federazione Russa di cambiare i contratti sul gas i russi si sono sempre opposti e io ho sempre ascoltato il rappresentante finanziario della Gazprom il professor Komlev rivolgersi dalla platea a noi io allora ero al vostro posto e sentirmi dire state combinando un disastro con i cambiamenti che volete implementare per acquistare il prezzo del gas naturale e ne pagherete le conseguenze quindi questo per precisare che la responsabilità dell'incremento del prezzo del gas naturale è nostra non è dei russi e precede il febbraio 2022 come tra l'altro ho scritto anche in un paio di libri ma per venire la tua domanda Carlo è evidente che la Federazione Russa visti i sabotaggi chiamiamoli così del Nord Stream e del Nord Stream 2 e visto la non costruzione del South Stream giustamente Carlo diceva un gasdotto che avrebbe unito la Federazione Russa fino al nostro paese attraverso la Bulgaria rendendo il nostro paese il centro di smistamento del gas del sud Europa e questo gasdotto non è stato costruito perché tre senatori americani si sono presentati dal primo ministro bulgaro lo hanno chiuso dentro l'ufficio e si è uscito dall'ufficio strappando i contratti già firmati per la costruzione del gasdotto ecco bisogna essere chiari insomma avete già capito che cosa è successo in quella riunione ebbene la Russia ha cominciato a volgere lo sguardo verso oriente sin dal 2014 firmando un contratto con la Cina per un primo gasdotto che si chiama Power Siberia 1 di 38 miliardi di metri cubi per un valore di 400 miliardi di dollari e un contratto trentennale questo gasdotto poi è stato ampliato con dei nuovi contratti firmati proprio a febbraio 2022 direttamente da Putin e da Xi Jinping e i miliardi sono diventati 48 e si stanno aggiungendo degli altri gasdotti che si chiamano Power o Siberia 2 che uniranno sempre la federazione russa alla Cina non più nord orientale ma la Cina nord occidentale e rami di questi gasdotti raggiungeranno altri paesi come la Mongolia oltre ad una serie di progetti concernenti il gas naturale liquefatto che raggiungeranno via mare altri grandi paesi dell'Asia penso ad esempio il Pakistan che è il quarto qui quarto paese per popolazione per popolazione nel mondo rendiamoci conto che la domanda di gas in Asia Carlo crescerà del 20% nei prossimi 20 anni e di questa crescita come qui esatto il 40% lo coprirà la Cina e quindi inevitabilmente la federazione russa volge il proprio sguardo verso Oriente vorrei dire un'ultima cosa molto importante su questo aspetto noi siamo riusciti a scavallare concedetemi l'espressione quest'inverno fondamentalmente per le condizioni climatiche particolarmente straordinarie però c'è un secondo fattore sottaciuto dalla politica ma con grandi ripercussioni in politica internazionale ed è dato dal fatto che il gas russo è stato in parte sostituito dal gas naturale del liquefatto americano e non solo americano che però a dire il vero non doveva arrivare in Europa doveva arrivare in Asia ma che poi noi europei siamo andati ad acquistare pagando una serie di penali anche e quindi queste navi metanifere a contratti già firmati hanno cambiato strada e invece di arrivare in India in Bangladesh in Pakistan sono arrivati in Europa ma loro sono rimasti senza gas naturale e questi paesi ad esempio hanno fatto l'inverno con tre ore di elettricità la mattina due a pranzo e due a cena perché noi potevamo offrire un potere d'acquisto maggiore ma guarda caso sono proprio quegli stessi paesi che oggi stanno facendo incetta di petrolio e gas naturale dalla federazione russa e che la stanno appoggiando in tutto e per tutto la federazione russa non è isolata e le conseguenze delle nostre scelte in politica energetica le stiamo pagando proprio nel conflitto in Ucraina sì come dice Roberto Mazzoni dalla Florida le sanzioni sono per i feisi insomma in parole povere possiamo dire così purtroppo le sanzioni le stiamo pagando soprattutto noi perché le sanzioni non le sta pagando l'altra sponda dell'Atlantico gli Stati Uniti d'America ma le stiamo pagando noi anzi se uno andasse a vedere quelli che sono i conti finanziari degli Stati Uniti con i paesi con l'estero vede un miglioramento addirittura per quanto attiene gli Stati Uniti d'America dal punto di vista macro finanziario e questo perché le conseguenze invece ricadono quasi tutte sull'Europa e dico un'ultima cosa se si trovasse noi ovviamente auspichiamo il prima possibile perché i morti sono un dramma per tutti e per tutto ma se si trovasse un accordo tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti d'America e la stessa Cina che come abbiamo visto si sta muovendo a 360 gradi io credo che gli Stati Uniti d'America non ci penseranno due volte nel passare sopra l'Europa spiattellandola letteralmente pur di trovare un accordo con i russi e con i cinesi e quindi noi pagheremo due volte le conseguenze del conflitto in Ucraina Senti secondo te gli Stati Uniti possono permettersi che venga fatta una pace tra l'Ucraina e la Russia visto che adesso si è diciamo ha preso un ruolo importante la Cina in questo senso la mossa anche di Xi Jinping con Zelensky La mossa di Xi Jinping è ovviamente fondamentale fa parte di una serie di mosse Carlo se mi permetti che partono dal Medio Oriente mettono insieme addirittura l'Iran e l'Arabia Saudita e questo sul tema anche dello Yemen e questo porta avanti anche un piano di natura strettamente monetaria sto facendo evidentemente riferimento alla possibilità di prezzare le materie prime non più in dollari bensì con la valuta cinese e quindi è evidente che tutto interesse dalla parte cinese di riuscire dopo avere appunto portato alla pace tra l'Iran e l'Arabia Saudita di riuscire a fare la stessa cosa anche in in Ucraina questo per loro sarebbe importante sarebbe fondamentale ovviamente per gli Stati Uniti d'America questo sarebbe uno smacco terrificante perché a livello internazionale fino ad oggi non si poteva muovere nulla senza il placere degli Stati Uniti d'America mentre in questo modo noi vedremmo non dico una sorta di sostituzione ma la possibilità di mediare certi conflitti anche con il ruolo attivo della Cina e non dimentichiamoci che da un punto di vista economico commerciale la Cina non ha l'interesse nel vedere sprofondare l'Unione Europea men che meno l'Italia un suggerimento guardate la bilancia commerciale del nostro paese negli ultimi mesi nell'ultimissimo anno l'incremento delle esportazioni dell'Italia nei confronti della Cina è stato impressionante addirittura un incremento a tre cifre questo vuol dire una cosa molto chiara che i cinesi vogliono dialogare con noi certo non è facile sappiamo che ci sono tanti problemi e tante contraddizioni ma la Cina con noi vuole avere un rapporto aperto commerciale acquistare tanto con noi e secondo me noi dobbiamo essere molto bravi nell'implementare una politica pragmatica autonoma che tenga conto dei nostri interessi commerciali anche nei confronti dell'Asia lo si può fare lo fanno i tedeschi vendendo i loro prodotti in Cina e non solo lo fanno i francesi bene non si capisce perché non possiamo farlo anche noi dobbiamo essere sempre subalterni agli Stati Uniti d'America domandiamolo i governi di questi anni qua una cosa proprio in chiusura veloce Demostenes dicevi il rapporto la Cina ha interesse eccetera eppure il governo Meloni si appresta a mandare in soffitta il memorandum che era stato siglato nel 2019 ancora il governo Conte I mi sembra sulla via della seta e quindi come la mettiamo qui sì questo è un punto molto delicato è chiaro che il governo attuale subisce delle fortissime pressioni da parte degli Stati Uniti d'America è chiaro che via Veneto cioè sede dell'ambasciata americana a Roma da questo punto di vista è stata già molto chiara con la Meloni e con il governo attuale all'interno del quale esistono però delle sensibilità diverse tra loro perché i dati e il ragionamento che vi facevo in precedenza ovviamente il governo lo conosce molto bene i dati dell'export nei conforti degli Stati Uniti d'America insomma sono noti il governo italiano per il momento ha preso tempo Carlo perché deve decidere entro la fine dell'anno per cui c'è ancora qualche mese è una situazione particolarmente complicata ma per il futuro del paese visto anche quello che veniva correttamente detto da chi è stato su questo palco prima di me beh io credo che noi dovremmo comunque cercare di rinnovare questo memorandum perché a livello internazionale è l'unico progetto economico produttivo che può portare dei benefici ad una serie di paesi certo ci sono anche dei rischi ci possono essere anche dei problemi ma una cosa è tagliarsi fuori prima e quindi non discuterne un'altra cosa è essere dentro e potere disquisire di ciò che invece si può portare avanti perché è nel nostro interesse e ciò che invece non riteniamo sia nel nostro interesse noi siamo nel cuore del Mediterraneo abbiamo dei porti fondamentali in zone strategiche che interessano tanto i cinesi noi saremo la fine della via della seta che parte da loro e arriva fino a noi quindi abbiamo tutto l'interesse a interloquire con la Cina anche perché se non lo facciamo noi lo farà qualcun altro anzi lo sta già facendo qualcun altro chiedere agli olandesi e chiedere ai tedeschi che con i loro porti si sono già morsi in ambito di politica e di geopolitica i vuoti si riempiono come sappiamo benissimo abbiamo tutti avuto un saggio e capito perché Demostenes Floros interloquisce ai massimi livelli in molti dei paesi dell'ex federazione russa grazie alla sua autorevolezza e preparazione grazie grazie Demostenes grazie Demostenes Floros grazie